Carmignano, terra a mano, tripla, vino naturale, vino estremamente interessante, una piccola eccellenza toscana, gli do anche un bacio, andiamo subito a la conoscere. Oggi bellissimo vino, bellissimo vino toscano, anche abbastanza famoso, si conosce bene, un vino che a me piace particolarmente perché rappresenta la terra, un vino maschio, un vino molto, molto di carattere, di cosa sto parlando? del Carmignano di Terre a Mano. Carmignano Terre a Mano è composto da Sangiovese, Canaiolo e Cabernet Sauvignon. Andiamo subito in recensione. Ciao a tutti, eccola qua, Terre a Mano Carmignano, questo è l'anno 2015, un'ottima eccellenza toscana come abbiamo detto nella presentazione del vino, un vino bello, che si abbina alla nostra cucina, che può veramente dirci tanto. Andiamo subito alla recensione. La esibesiva, al solito, non presenta particella in sospensione, vino risulta limpido. Un bel colore è questo. Qui siamo sul rosso rubino, sì, ma molto tendente anche a un rosso più deciso, quasi sul granato, diciamo. Rosso rubino borderline, diciamo così. Andiamo abbastanza consistente. Analisi visiva bella, analisi visiva convincente, in regola con quelle che sono le caratteristiche, con quella che è l'idea che ho di Carmignano. Andiamo al naso. Vino che risulta abbastanza intenso, abbastanza complesso, abbastanza fine, siamo molto sull'abbastanza. C'è una nota abbastanza forte a livello alcolico. Arriva molto rum, arriva un attimo l'alcol. Prima arriva l'alcol, poi arriva il resto. Il resto cos'è? Il resto è sicuramente una tostatura. Una tostatura di caffè, appunto. Una tostatura di cioccolato, appunto. Una nota di... Chiodi di garofano, appunto. Una nota erbacea, in lontananza, nascosta, sotto la coperta. Un naso comunque non proprio fine, perché sono un po' ammassati questi sentori, sono un po' confusi, però ci sono e sono tanti. Nel senso, io continuo a sentire note anche un po' sfumate, un po' bruciacchiate, no? Come in questo legno, il classico odore della barrique, no? Quelle americane che le bruciano proprio ovunque, no? Per dare una tostatura, ecco. La tostatura è forte, c'è la tostatura sia di legno, sia di caffè, sia di cioccolato. Tostatura è quello che mi viene in mente quando sento questo vino. Andiamo in bocca! Vino secco, vino abbastanza caldo, abbastanza morbido, poco fresco, poco fresco, abbastanza tannico, ha una stringenza nella media, non la stavo usando, perché quella, come sapete, viene dopo, no? La stringenza, veloce, è quello che si sente in bocca dopo, diciamo, la secchezza, ok? Si genera in bocca dopo il sorso, quindi sentiamo passare le gingive, sentiamo una salivazione rallentata, sentiamo un po' la bocca che diventa un po' più pesante. Ecco, questa è abbastanza tannico, tendente al tannico, quindi questa è una caratteristica che si ammina molto bene alla succosità, no? Degli elementi che poi andiamo a unirci con il che riguarda il cibo. Comunque, continuiamo. Abbastanza sapido, abbastanza equilibrato, direi intenso in bocca perché arriva forte in bocca, è molto più intenso in bocca che al naso, il naso è molto più blando, molto più tranquillo, molto più calmo, arriva molto più a passo nuovo, invece in bocca ti arriva un po' con la moto da corsa. Persistente perché lo sento, persistente in bocca, qualità direi abbastanza fine, abbastanza fine, è un vino di corpo, è un vino pronto, è un vino che io definirei abbastanza armonico. Il cane mi ha guardato malissimo, ora voi non lo vedete, ma c'è un mio adorato maltese che mi ha guardato quando ho fatto la... Mi ha guardato malissimo. Quanto costa questo vino? Questo vino sta intorno alle 30 euro, un prezzo che io definirei onesto, un prezzo che io definirei in linea con le caratteristiche del vino che a me piace personalmente tantissimo, quindi un ottimo esponente del vino in Toscana. Quanto gli do? 14 gradi e mezzo, c'è l'alcol, quindi questo lo abbinate con... con roba con i muscoli, qua un cinghiale di quello bello saporito con l'olivina amara. Che te lo dico a fare? Un lardo, anche un bel lardo all'inizio. Sai un bel crostino con il lardo, un po' fuso sopra, ci sta benissimo. Detto questo, Bianchi Francesco di Italian Sommelier, il mio voto, terra a mano, carminiano 2015, è di 87 punti su 100. Detto questo, io vi ringrazio, seguitemi sui social, adesso siamo anche su Twitter con Italian Somm, e ci vediamo presto, ciao!